Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro Juventino Pazzo Intanto voglio salutare l'amico mio Franco Leonetti e tutti gli amici di Top Planet Marcello Chirico, Cesare Pompiglia e tutti eccetera E tutti dai, sono troppo euforico della partita di ieri sera della grande vittoria della Juventus Contro il Monocoa Principato con doppietta di chi? Del Chiattoni, come lo chiamano a Napoli Del Panzerottoni, Gonzalo, Iguain, che goduria, che goduria Ma come si può godere, come si gode, si gode, si gode Un tanto così e andiamo a Cardiff a giocare forse la finale con Real Madrid Tutti dicono Cristiano Ronaldo Ma Cristiano Ronaldo sbatterà contro il muro difensivo della Juventus Sbatterà perché noi abbiamo Chiellini, Barzai, Borucci La BBC E Cristiano Ronaldo non passi Non passi Poi vabbè, in porta ci c'è C'è un fenomeno di 39 anni Un portiere che ancora vola Come un angelo, vola Infatti gli ha fatto due miracoli Ma chi è? Chi è questo portiere? Gigi Buffon ha 39 anni Che ancora vola tra i pali Lo dovete mettere il pallone d'oro Quest'anno merita il pallone d'oro Perché Ronaldo, sì, sta facendo benissimo in Champions Ma il campionato sta giocando bene Non sta facendo tutto questo fuoriclasse Perciò il pallone d'oro va a Gigi Buffon Gigi Buffon Ha salvato anche il risultato con Barcellona contro Iniesta E lo ha salvato ieri E quest'anno faremo le tribette Sono sicuro Già sabato penso che batteremo il toro E vinceremo il stesso scudetto di seguito Poi ci concentriamo Nel ritorno di semifinale Di Champions League contro il Monaco Che allo Stadium non passa nessuno Nessuno passa allo Stadium E poi ci concentriamo alla finale con la Coppa Italia Contro la Lazio Di tutto rispetto E poi se vuole Dio Il 3 giugno La finalissima a Cardiff Contro il Real Se poi l'Atletico Madrid Non aveva una botta di culo E fa Ribatte il risultato E vince della 0 Non lo so 4-0 Comunque ragazzi Super Juve Batte il Monaco Super 0 Iscrivetevi al canale Un'altra cosa Un salutone a tutti gli amici Di Top Planet La mia giornata è迄지олare Ogni ore